Good morning Milano, venerdì 10 maggio, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Crystal Radio Milano, 96.2 FM, Dub Plus e tutte le altre maniere che avete per poterci ascoltare, che sono tutte quelle che volete, le app, il sito, insomma, Crystal Radio è qui che vi aspetta tutte le mattine, poi si sanno, noi diamo il calcio all'inizio e poi siamo avanti tutto il giorno con la grande musica e i grandi speaker di Crystal Radio. Allora, come state, cosa state facendo, dove state andando? 331-7853-555, potete raccontarcelo e condividerlo con noi, potete essere voi i protagonisti di questa puntata di oggi, di venerdì, e quindi Thanks God is a Friday! Ebbene sì, siamo arrivati alla fine di questa settimana, ma attenzione, attenzione, ricordatevi sempre che anche domani mattina saremo in onda, ebbene sì, dalle 8 di domani mattina si iniziano i festeggiamenti, si parte con la grande festa, la maratona, la staffetta, la maratona staffettata degli speaker di Crystal Radio, che dalle 8 del mattino fino a sera, uno dopo l'altro, come si dice, si avvicenderanno, avvicenderanno dietro il microfono per raccontarvi i 40 anni passati di Crystal Radio, fare gli auguri a Crystal Radio, ma anche darvi dell'idea di cosa sarà Crystal Radio da oggi in avanti, insomma, 40 anni e sentirli benissimo, questo è Milano, si sente, questa è Crystal Radio. Domani mattina, alle 8, con Ambrogio Curti, saremo insieme, ad esempio, quindi la coppia inedita che avreste sempre sognato, che non sapevate di cui, la coppia di cui non sapevate di aver bisogno, eccoci, io e Ambrogio Curti. Bon Jovi, Living on a Prayer, 7 e 14 minuti, a me sono cresciuti i capelli, mi si sono stretti i jeans, funziona così, è quando c'è Bon Jovi, ti si allunga la chioma, ma anche leggermente bionda diventa, e liscia così, un po' ogni 80 e si stringono i jeans in maniera esorbitante, che non si capisce bene, questo effetto è quello che ti dà Bon Jovi, appunto alle 7 e 14 minuti di oggi, venerdì 10 maggio. La prendiamo col sorriso questa giornata, anche se devo darvi questa notizia, è una notizia che abbiamo letto anche dai giornali, è una notizia che mi colpisce anche personalmente, perché Maurizio, lo conoscevo benissimo, ci ha lasciati, ci ha lasciati Maurizio Merlotti, il mago Mao dei Sentinelli, lo leggiamo da Corriere della Sera a Milano, morto Maurizio Merlotti, il mago Mao dei Sentinelli, la Milano laica e antifascista, è da oggi più sola. Ebbene sì, Merlotti, una vita donata agli altri, donata all'attivismo politico, sociale, per i diritti civili, Merlotti era iscritto all'AMP, ad esempio nella sezione Martiri Niguardesi, aveva 61 anni e da un mese appunto era ricoverato all'ospedale Sacco e due giorni fa appunto ci lascia. Molto bello l'articolo che lo ricorda su Corriere della Sera, molto belle le parole che lo ricordano in tutta la rete, da esponenti politici di entrambe le parti, nonostante appunto fosse ben schierato e molto ben visibile il suo schieramento, vi è sempre stato riconosciuto una grande onesta intellettuale, è colui che ha inventato il logo dei Sentinelli di Milano, è colui che ha dato i colori a quel movimento che ha fatto tanto a Milano e che sta facendo tanto per i diritti civili e che continua appunto a far cantare e ballare anche molte persone con il sorriso scansonato che fa proprio parte dei Sentinelli. Quel sorriso in questi giorni non è facile ritrovarlo sui visi, sui volti di coloro che erano vicini a Maurizio, però insomma vogliamo anche ricordarci quante risate abbiamo fatto insieme a lui. Allora proprio per questo non posso che salutare Maurizio, ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e dargli appuntamento a un domani magari chissà dove e grazie Maurizio Merlotti, questa è per te. Maledetta primavera con Loretta Goggi, con Maledetta primavera, dedicata appunto a Maurizio Merlotti, un saluto anche a tutti i Sentinelli, a tutti coloro che sabato saluteranno Maurizio a Sesso San Giovanni, appunto nel nuovo cimitero di Sesso San Giovanni. Dobbiamo ovviamente comunque andare avanti e andiamo avanti grazie soprattutto a voi, ai vostri whatsapp, e ai vostri messaggi al 331-7853-555. Buongiorno Cristalini, buongiorno Fabio, buongiorno a te Alberto. Anche per questa settimana siamo arrivati al weekend, ebbene sì, thanks god, it's Friday. Giornata densa di impegni, a chi lo dici, Civil Week. Ieri ragazzi abbiamo girato tutto il sud Milano, San Donato, abbiamo fatto tantissimi eventi che comunque troverete oggi poi sul nostro sito di Milano News e oggi altrettanti, 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 altrettanti eventi nella zona ovest di Milano. E mi dice anche Alberto, credo che abbia piovuto anche questa mattina presto. Allora, i miei panni stesi dicono di sì. Io ormai ho questa, la mia stazione meteo sono i miei panni stesi, che regolarmente metto quando non devo mettere. E quindi sono rimasti lì, sono rimasti lì da ieri perché ieri non ho fatto il tempo a ritirarli dentro, anche perché non mi piace. Cioè se c'è una cosa che non mi piace, a stendere mi piace, posso dire la verità, stendere non mi pesa per niente, ma ritirare i panni stesi mi pesa proprio, è una roba di quelle che non mi piace niente fare. Quasi al pari di sbottare la lavastoviglie, che la trovo una delle cose che non dovrebbero esistere al mondo. Io non capisco perché uno non fanno delle lavastoviglie alte invece che per terra. Cioè mettetela all'altezza, avete alzato i forni? Alzate anche le lavastoviglie. Poi fate dei carrellini che io mi metto vicino al tavolo, butto sul carrellino, porto il carrellino davanti alla lavatrice, cioè la lavastoviglie, butto il carrellino dentro e si lava così. No, invece sta lì, le forchè. Poi, altro tema importante, quando mettete le posate nelle lavastoviglie, i coltelli, come diavolo vanno messi? Con la lama di su, con la lama di giù? A testa in su, a testa in giù? Io questa cosa non l'ho mai capita. Credo e spero e mi auguro che qualcuno di voi in ascolto sia un esperto nel caricamento e scaricamento di lavastoviglie, così mi sa dire, finalmente. È un po' come il dilemma del rotolo di cartigeni che imbagna, che non si sa mai se lo strappo va messo verso l'esterno o verso l'interno. Ecco, i coltelli, si mettono con la lama verso l'alto o con la lama verso il basso? Aiutatemi, please, help me. Comunque, si fa anche una domanda interessantissima, Alberto. Cioè ci fa e si fa da solo. Chi vincerà l'Eurovision Song Contest 2024? Bella domanda, perché ieri sera appunto c'è stata la seconda semifinale. seconda semifinale che ha visto tra le esibizioni, non in gara, perché comunque era già, non andiamo direttamente in finale, ma c'era anche Angelina Mango, che, devo dire la verità, mi ha colpito perché non ha riportato le esibizioni di Sanremo così com'era. anzi, ci ha lavorato un po', eh? Bella coreografia, bella scenografia, grandi visual di corone di spine, no? Che girano intorno mentre lei balla. Se proprio, proprio devo dire, forse l'unica pecca è che lei è vestita troppo come ballerina, uguale ai ballerini è vestita, molto, molto simili, ed è molto, molto simile ai visual. Quindi in alcuni momenti si perde tutta la... cioè, non capisci dove stanno. Si perdono un attimo. Però, secondo me, è volutamente così. Però, e forse in televisione ogni tanto, magari, visto che non ho un 70 pollici, ma c'ho un Brion Vega del 1922, magari non è che... Infatti, il problema può essere mio, eh, ovviamente. Poi voi da casa, con l'8K e 3D, avete visto tutto perfettamente. Però, devo dire, complimenti all'esibizione, bella esibizione. Forse, leggermente, qualche pecca, sbavatura di voce, non lo so. Però, se anche lì, ripeto, magari, semplicemente, uno, l'emozione, due, anche il fatto che, appunto, il mio Brion Vega non è che si sentiva benissimo. E il traffico, invece, com'è? AC DC, Through the Mist of Time, alle 7.33 minuti di oggi, venerdì 10 maggio. Gli eventi della settimana a cui io non andrei. Buongiorno, Eribi. Buongiorno. Allora, settimana è impegnativa per noi, è qua con la Civil Week, quindi non ti dico quanti eventi. E quanti eventi ho pensato a cui tu potresti essere... Allora, ho letto dei titoli, veramente, che potevi... Pensa che io ho fatto una scelta stilistica. Sì, dimmi tutto. Non ho messo dentro neanche un evento della Civil Week. Va bene, grazie. Sono stata molto brava. Sì, infatti, meglio così. In magnanima. Meglio così perché poi io ci devo andare e non volevo sentire gli insulti. Grazie. Esatto, esatto. Comunque è una settimana impegnativa anche per me, non so perché. Ah, va bene, succede ogni tanto. Ogni tanto succede. Allora, allora, intanto il primo evento a cui non andrà l'Eurovision. Sono qua. Vabbè. Però la stai guardando, so che lo stai guardando. Sto guardando e purtroppo, purtroppo, scusate, perché mi accusano di mettere la L dove invece va la R. Non vedrò neanche la finale. Questo è un po' cattolico, sì, so che sei occupata. Sì, sì, sì. Troveremo il modo. Troveremo il modo. Cosa dici di Angelina Mangolo ieri? Tanta roba. Brava stata. Tanta roba, soprattutto per una ragazza così giovane. No, sta molto bene. E soprattutto ha fatto una esibizione da Eurovision, cosa che solitamente l'Italia non fa. È vero, è vero, è vero. Di solito, devo dire, l'ha fatta da Eurovision senza però cadere nella trappola dell'Eurovision. Nella trappola dell'Eurovision, che fa quel circo baraccone. O un sacco di acclamazione, boh, non succede. Ma se succede, stavolta andrà a Milano, chi può dirlo. Lo sa, anche se quando è salita la Spagna, però. La canzone da Spagna la sapevano tutte. Tra l'altro, non so se è vero, ma Israele ha beccato una marea di voti dall'Italia. Ah, e non l'ho guardato, non l'ho visto, non l'ho visto come è andata, non l'ho visto questo. Sì, la signora della Spagna è veramente fantastica. La signora della Spagna, diciamo signora perché ha una certa età. Grandicella. Ricorda lontanamente un po' una Raffaella Carrà, così un po'. Anche se io amo molto Europapà. Europapà è bellissima, no, vai vedere anche molto commovente sul finale. Va bene, ma bando alle ciance, andiamo avanti su quelli che sono gli eventi dove io e Ribi non andrò. Ah, primo tra tutti c'è una roba super amarcorda, almeno per quanto mi riguarda, ma spero che in qualche modo sia ancora in auge per chi l'ha organizzato. c'è lo Ska Fest. Il festival dello Ska? Sì. Ah, però... Il reggae velocizzato, come si dice spesso. Sabato dalle 19 al Legend Club Milano, che è in zona Niguarda, a partire da 16 euro i biglietti, c'è sto Ska Fest, dove ci saranno anche i Vallanzasca. Quindi ho pensato gente vecchia che va a ballare i Vallanzasca. Infatti non ci vuoi andare? No. Ah, va bene, ok. No, 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 grazie, grazie. Ah, sono andata a sforare... Vallanzasca, perché io non so se non è il criminale, ma un grande gruppo musicale... Vallanzasca, scritto con la Ska, che suonavano quando non eravamo dei giovani. Sì, decisamente molto giovani. Ho sforato anche nella settimana prossima, perché c'è l'evento degli eventi dove io non andrei, che è il concerto di Radio Italia. Ah, ok, no, beh, fossimo già all'artigiano in fiera. No, quello è l'eventissimo. Quello è l'eventissimo. Comunque c'è il concerto di Radio Italia, mercoledì 15 maggio, dalle 18, in Piazza Duomo. Una volta soltanto sono andata, faceva un caldo cane, c'era troppissima gente. Adesso ho capito che forse c'è una sorta di contingentamento. Beh, sì, devi registrare sul sito di Radio Italia e andare lì. Ma io continuo a ripetere, chi non si registrerà, non li comunque, e staranno nelle vie di fianco. Quindi sarà un... Ah, e stamattina ho visto una storia di Fedez, dove ha vinto, tra virgolette, l'ennesima causa contro il Kodakons, che dice che non esiste il fatto, in sostanza. Non sussiste. Non sussiste il fatto, ma gli hanno fatto una domanda su Love Me, che ci sarà di nuovo anche quest'anno. Ecco, ci manca anche quello. Quindi sarà un'altra bella notizia per te, immagino. Sì, ma di no, io sono contratissimo ai concerti e alle manifestazioni in Piazza del Duomo. Ok, andiamo avanti. Sempre mercoledì, a Mare Culturale Urbano, c'è Tango Bar al Mare, Pratica e Lezioni, a partire dalle 20. Ti ci vedo benissimo. Dai, non ti piace fare il tango in Piazza del Duomo? Sai cosa penso sul tango? No. Che sia imbarazzante. Cioè, stimo tantissimo per chi ci riesce, è bello, però per chi lo guarda, è un po' cringe, non lo so. Non ho capito da dove attinge questa tua, ma va bene. Non lo so, mi fa imbarazzare. Ah, poi c'è Orticola, amici. Ho sentito, sabato scorso, qualcuno che ne parlava con tantissimo entusiasmo al pranzo in cortile. Ah, sì, sì, sì. Mi sono dovuta mordicchiare la lingua per non dire, mmm, ma un po' non è cosa. No, spiega cos'è Orticola e cos'è mai. Ah, Orticola, intanto, viene fatta al Giardini Pubblici Indro Montanelli dal 9 al 12 maggio, quindi è già partita, e andate lì e comprate tutte le vostre piantine. Vabbè, sì, penso che potrebbero chiamarti per fare il volantino e il manifesto di Orticola. Sì, vieni a comprare le tue piantine. Le tue piantine, vabbè. Ma non bene, cioè, non è che non mi piace, è molto bello, ma io ho il pollice nero e quindi per me è una cosa inutile. Se ti senti tu in difetto perché non sei capace di fare una cosa, non è che non devono fare la manifestazione. Senti, questi sono gli eventi a cui io non andrei, non che gli altri non ci devono andare. Ok, giusto, chiaro. Poi ci sono un'altra roba super amarcorda. Scusami, vien da ridere. Domani all'Alcatraz c'è il concerto degli Eiffel 65. Ancora vivi solo? Sono ancora vivi e lottono insieme a noi, grandi loro. Cioè, non saprei veramente dove andare a sbattere la testa, se ero allo Ska Festival o al concerto degli Eiffel 65. Comunque, raga, se vi piacciono e siete nostalgici di quei tempi... Cioè, i più giovani è 35 anni più giovani. Cioè, ma cosa fanno per due ore? I'm blue, da, 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 da... Tutto questo, tutto due ore. Può essere, può essere. Non so, hanno fatto altre canzoni. Credo che mi hanno fatto anche altre canzoni, sì. C'era anche questa. Non so se quella fosse loro. Venitemi incontri, amici. Come si chiamava la seconda canzone di Eiffel? Va bene. Martedì, invece, c'è una cosa che potrebbe interessare a te? A me no, assolutamente. Assolutamente. A partire dalle 20, anzi alle 20, a Rozzano, nella pista dei go-kart, c'è MKC Presenza, Squid Race, la 60 giri. Sono due fasi in sostanza. Chi supera la prima fase, poi si scontra a fine nella seconda fase. Non è proprio così, ma va bene. In realtà ci sono 10 o 15 giri, però a un certo punto... No, sono soltanto due i pit stop, diciamo. 60 giri, ho detto. Sì, a un certo punto devi cambiare anche le gomme. Sì, ma succede questo, che poi ogni giro, l'ultimo, viene escluso. Ah, boh, questo non so come funziona. Prima non si chiamava Squid, era tutt'altro. Si chiamavano gara di mie azioni, sono sempre esistite. Adesso, per andare addietro al trend di Squid Game e così, le chiamano Squid. Questo ti piacerebbe. Sì, sì, di brutto. Sarai il primo eliminato, però è bello. Ah, domenica è la festa della mamma. Auguri alle mamme. Quindi, se non lo sapevate, iniziate a prepararvi e andare a comprare qualche regalino per le vostre mamme. C'è mamme in festa, al mercato centrale, quindi in stazione centrale, c'è un laboratorio creativo dedicato ai bambini e alle loro mamme, a partire dalle 15. Ci andrai, Fabio? Sicuramente, guarda, vado a fare i lavoretti. Quindi, sicuramente questo, come sapete bene, io non ho bambini e non sono più un bambino, quindi non posso fare i lavoretti per i bambini. Quindi, concludo con l'ultimo, che in realtà è una cosa che mi piace, ma mi fa allo stesso tempo arrabbiare. Ed è dal 10 al 12 maggio, quindi partire da oggi fino a domenica, agli Arcimboldi, c'è Arturo Brachetti solo. The Legend of Quick Change. Eh, io non ci vado perché, cioè, mi nervosisco, vorrei farlo anch'io, vorrei capire come si fa a cambiarsi così velocemente. Cioè, no, fammi capire una cosa, tu non vai a vedere un artista come Arturo Brachetti solo perché ti fa nervosire? Sì, 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 sì. Vabbè, pensate voi come stai messi. Eh, vi ho dato un sacco di eventi, eh, questa settimana. Cioè, questa è anche un po' la prossima, perché ci sono bene il tango, il concerto di Radio Italia e la roba dei go-kart che va nella settimana prossima. Sì. C'è qualcosa? Madonna mia. Questi, la mia blu, anche. Sì, ma non solo questo. Move your body. No, ma io ne pensavo un'altra, anche, però... No, non ho trovato questa, se vuoi. Mamma mia, pensa due ore così. Move your body. Move your body. Mamma mia. Quindi ci hanno già due canzoni, però. Io ne so anche una terza. Anche una terza. Ma soprattutto, poi, ho visto che sono uscite canzoni anche nuove, in realtà. Sì, ma infatti, c'è, molto probabilmente non sono del tutto morti. E vabbè, 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 dai. Allora, ti devo salutare, siamo arrivati alla fine del nostro intervento. Non mi hai ringraziato, però, questa mattina. No, ti ringrazio adesso. Perché non mi hai ringraziato? Volevo ringraziarti tantissimo di questa opportunità che mi dai. e volevo augurare a tutti una buona festa della mamma. Giusto. E anche una buona festa dei 40 anni di Cristal Radio. Per poco non siamo coetanei, quindi come ci si sente ad avere 40 anni? Lo scopriremo domani. Lo scopriremo solo vivendo, amici. Lo scopriremo anche tu, quindi magari ti tiro in mezzo domani mattina. Sì, bisognerà vedere se hai voglia di parlare. Ok? Va bene. Ok. Può essere che non hai voglia di parlare solo tu mattina. Può essere. No, domani sarà una giornata difficile, quindi va bene così. Va bene, amici. Buon lavoro a tutti. Grazie mille, Eribi. Alberto dici quelli che non hanno i tagli. Eiffel 65. Urca, Alberto. Pure gli Eiffel ti piacciono. Caspita, caspita. Sì, vedi, è molto, molto più giovane. Ma la domanda numero uno, sarà la formazione originaria? Due erano. Appunto. Ma sì, ma io non vorrei... No, su questo io sono veramente... Cioè, da dico grosso, ma che... No, non c'entra. Non lo so. Infatti io non ho mai... Ma sì, no, uno di due non era Gabri Ponte. Ma sì, dai, adesso... No, secondo me non era Gabri Ponte. Ma sì, dai, non lo so. Perché tra l'altro ho scoperto in questo momento che Eiffel si è con due L. Eiffel. Sì, io cercavo Eiffel e non è L sola. Allora, vediamo chi sono gli Eiffel di informazione. Gabri Ponte, infatti, sì, sì. Ah, vedi un po'. No, era lui, era lui. Si vede che l'altro ha bisogno di soldi. Va bene. No, dopo questa cattiveria me ne vado. Ciao, buona giornata a tutti. Va bene, comunque, Jeffrey J e Mauri sono gli attuali, gli ex membri Gabri Ponte, che appunto non c'è più. E quindi non ci sarà Gabri Ponte. Ah, vedi. Quindi erano in tre. No, no, erano in due. E' arrivato poi al posto di Gabri Ponte un tale... No, non è vero, erano in tre. Sì, erano Jeffrey J, Mauri alle tastiere e Gabri Ponte come DJ. Nel 2005 Gabri Ponte se ne va e poi torna nel 2014. Ciao, Ribi. Ciao. Con la pesce di Martino, musica leggerissima. 7,49 minuti, venerdì 10 maggio. Ancora qui in diretta su Christian Radio 96.2 FM, Dub Plus, app iOS Android, sito internet, ma tu lo sapete, potete trovarci un po' ovunque. Allora, leggemo un po' di notizie da La Repubblica. Perché prendo spunto, in realtà, da una notizia uscita qualche giorno fa, ma che sta girando sui social per una foto che la accompagna, che racconta di un guasto, di un guasto a un semaforo all'incrocio di Melchiore Gioia all'altezza di BAM, per intenderci sotto, Piazza Garolenti, cioè lì, no, tra Porta Nuova, quell'incrocio lì. Come è successo? Si è rotto un semaforo. Completamente impallato l'incrocio in tutti e quattro le direzioni di provenienza. Questa foto che davvero sembra un'opera d'arte, sembra un'opera d'arte moderna, così intitola Repubblica Milano, un bel po' di confusione per riuscire a sistemarlo, oltretutto con le piste ciclabili belle visibili, rosse, completamente coperte, le macchine, comunque, veramente un'opera d'arte molto importante. E questo fa capire come appunto salta un semaforo e c'è il delirio, il traffico prende il sopravvento e diventa veramente delirante vivere a Milano. Questo perché? Perché invece sulla Repubblica di oggi leggiamo del rinvio dei divieti per le auto e per le moto a Milano, appunto, che viene posticipato il blocco della circolazione anti-smog. Cioè, ecco lo succede, leggiamo bene, rinviati divieti per le moto e per le auto diesel Euro 6, Milano posticipa il blocco della circolazione anti-smog. La Giunta ha approvato la modifica degli interventi previsti dal primo ottobre in area C e area B. Per le moto a quattro tempi Euro 2 si partirà dall'autunno 25 per i veicoli diesel 6 dal 2028. Dal 2028, cioè passati dal 2026 al 2028. Di base possono anche esserci delle ragioni sotto interessanti, secondo me anche reali. Cioè, un diesel Euro 6 è assurdo che adesso non possa più entrare in città, in area B, in area C, non possa più circolare liberamente in città. No, è assurdo, credo proprio che sia assurdo. In area B tutti ci entri. Dai, adesso va bene tutto, però. Ma il problema è, come sempre, un problema di comunicazione. Cioè, perché prima hai fatto tutta la campagna? Milano Green, via le macchine. No, basta, buttate via le macchine perché adesso si può andare in giro solo a piedi, in bicicletta, oppure non vi muovete. No, basta. No, 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 no. Così, no, perché è stato quello. No, ma scusi, no, 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 no. Ma noi vorremmo dirle no, 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 no. Ma c'è un problema. Non vado a sentire così, no, perché è stato così. È stato questa la reazione iniziale di tutto il movimento, soprattutto politico-amministrativo, perché in realtà gli stessi Verdi dicono sempre attenzione, facciamo le cose con calma, passo passo, spieghiamo ai cittadini. No, invece, no, 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 no. Va bene, ok, così. Infatti, tra di fatto che adesso hanno dovuto rimangiarsi tutto quanto, ritornare sui propri passi. Quindi, niente, i Disler o 6 potranno continuare a rientrare, tutto. E così cosa hanno fatto? Giustamente, i Verdi e gli ambientalisti si sono cavolati, ma dicono, allora, scusa, prima dici che fai una cosa. Fai tutte le politiche possibili, immaginabili, green, cioè tutti proclami green e poi la politica invece non lo è. Allora, cerchiamo di capire però da che parte andare. Anche perché, e allora qui invece, per farvi capire come queste assurdità sono veramente bipartisan nel panorama politico locale milanese e non solo, vi direbbe da dire, va bene, allora, sai che c'è, io ho avuto via la macchina e mi prendo un bel treno. E allora prendetevelo sto treno, se volete, ma attenzione a che treno prendete. Perché? Perché, notizia appunto che leggiamo da Repubblica Milano, Lombardia, treni nuovi appena comprati e già rimossi dalle linee pendolari. Troppo piccoli, non reggono la capienza. Trenord ha spiegato che i nuovi convogli sono stati spostati su altre fasce orarie nell'ottica di una riorganizzazione del servizio. Sta di fatto che, se andate a vedere poi, però dove messi, cosa messi, risulta solo che questi qui, che sono i nuovi treni, quelli un po' più piccolini, sono stati spostati su altre linee. La cosa divertente è che chiunque fosse salito su questi treni negli ultimi mesi, cioè chiunque, ma anche un bambino se ne accorgeva che non c'era posto. Cioè, belli, perché io li ho adorati, mi piacciono tantissimo, sono quelli con il muso verde, con la scaletta quando entri. Là sono dei dedali dove si passa dentro, sembra un labirinto bellissimi, ripeto, molto molto belli se li mettete su una tratta dove si sale in sei. Ma con, immagino, sulla Milano-Saronno, cioè è impossibile la gestione così. E infatti, nuovi treni spostati. Ma cosa succede quindi? Che i vecchi treni, fatiscenti, mezzi rotti e tutto, li metti sulle tratte più utilizzate, vorrà dire più treni cancellati, più treni in ritardo, più guasti. Ma si può. Cioè, è questo che io dico. Ma non riuscite a fare una roba, deciderla e farla fino alla fine senza fare tutto sto casino. Boh, io non capisco. Poi, è vero che è facile per noi cittadini, per noi giornalai che parliamo così al microfono, trovare sempre, no? Però, cioè, comprate il treno e non passa dal tunnel e non può andare fino a Rosera. Dopo Cromos non poteva passare perché c'era il tunnel. Comprate i treni nuovi, tutti contenti, la prima volta che ci salgono i prendolari dicono ma ragazzi, ma qui non ci stiamo. Cioè, non riusciamo a stare seduti, non riusciamo a stare in piedi, non si può stare tutti stipati, quindi perdo il treno che devo prendere quello dopo. Se ne accorge anche l'azienda, cosa fa? Mi tira via il treno nuovo, bello e pulito, mi dà quello vecchio, rotto, stradiscente che molto probabilmente verrà cancellato ogni tanto perché arriva in ritardo, perché si rompe. Bene, complimenti. Riuscire sempre a fare felici tutti quanti è l'obiettivo, vedo, di molti a quei livelli. Vabbè, andiamo avanti, Pitbull! Bee Gees Nights on Broadway alle 8.09, questo è il Crystal History delle ore 8, come sempre sapete appunto ora la grande musica internazionale e nazionale ma soprattutto quella della storia, quella che ha fatto gli anni della musica appunto viene cantata qui su Crystal Radio grazie all'ufficio di programmazione che sempre trova delle bellissime canzoni per farci partire nella migliore delle maniere ogni ora. Lo diceva prima, no Alberto, nel nostro messaggio quando mi ha aperto, diceva, credo che abbia piovuto anche questa notte, anche questa mattina presto, ecco, il problema è che ha piovuto ancora poi dopo, cioè nel senso che poco fa, prima della pausa ero andato a vedere le previsioni del tempo per darvi un po' la notizia, pensate, si sono già aggiornate, nel senso che il sole che doveva spaccare le pietre di questa mattina è stato sostituito da un precipitazioni deboli e poi invece da un coperto fino almeno alle ore dieci più o meno, quando in teoria alle dieci dovrebbero arrivare nuvi sparse su Milano, temperatura comunque che sta salendo perché già alle ore dieci si prospettano diciotto gradi, alle undici, diciannove, per arrivare poi alle ore diciassette con sereno, quindi le nuvole dovrebbero lasciare lo spazio appunto al sole e con una temperatura che si avvicinerà ai ventitré gradi, quindi questa mattina c'è di tutto, questa mattina c'è di tutto, cioè adesso uscite, piove, debolmente, poi smette, poi dopo viene fuori un nuvolo, poi dopo viene fuori il sole, con questo che le temperature continuano però a salire e già adesso comunque sono intorno ai diciassette gradi, sedici, diciassette gradi che con l'umidità dà veramente, veramente fastidio. Questo dovrebbe essere il tempo però che ci dovremmo portare a dietro in teoria fino al weekend, almeno così dicono le previsioni, il problema è settimana prossima, aspettatevi già il disastro, settimana prossima dà pioggia praticamente tutti i giorni, da lunedì, vi dico solo che in questo momento lunedì dà sole, fulmini, pioggia, nuvolo e nebbia, tutti insieme, tutti insieme, tutti i loghi che avevano per definire, le ha messe tutti insieme di uno sopra l'altro, quindi capite l'instabilità meteorologica che sta per arrivare nella prossima settimana, godiamoci questo weekend, cosa devo dirvi, godiamoci questo weekend, godiamocelo domani con la festa di Crystal Radio con una maratona dalle 8 del mattino fino a sera con tantissimi, tantissimi e ripeto tantissimi speaker che si avvicenderanno alla conduzione di questa maratona radiofonica, apriamo, ve lo ripeto magari per chi non era collegato nella prima ora con noi, apriremo alle ore 8 io e Ambrogio Curti, quindi questa nuova coppia che di solito viene prima uno e poi l'altro, invece qui insieme ci avrete alle 8 di mattina domani su Crystal Radio per la festa dei 40 anni di Crystal Radio. 8 e 15 minuti sempre qui appunto su Crystal Radio Good Morning Milano grazie ancora a tutti quelli che ci stanno scrivendo tutti quelli che ci ascoltano come sempre tutte le mattine qui in diretta. Vi ricordate che ieri abbiamo dato questa notizia di quest'uomo che camminava sulla tangenziale Est ed è stato travolto dalle auto e appunto morto ci si chiede ancora che cosa facesse lì cioè stanno ancora facendo le indagini per capire come mai ci fosse una persona di 40 anni che in mezzo alla strada in mezzo alla tangenziale stesse camminando tra parentesi ieri 8 km di coda nella zona appunto lì della tangenziale Est intorno diciamo all'uscita dell'Ortica per intenderci più o meno lì più o meno rubattino scusate l'uscita è rubattino vabbè sì l'uscita dell'Ortica l'uscita è rubattino comunque quella altezza lì incidente appunto leggermente inspiegabile facendo una piccola ricerca però mi sono accorto che insomma è una cosa che succede nel senso che non è la prima volta che succede una cosa del genere a se non sbaglio gennaio sì a gennaio di quest'anno quindi pochi mesi fa cinque mesi fa stessa cosa successe invece a un giovane di 25 anni che camminava a piedi sull'autostrada in questo caso sul tratto un leggermente più a sud tra l'uscita di San Donato e la frazione di Poasco da quella parte lì stava camminando sulla tangenziale fu travolto completamente da un'auto in questo caso si pensa però anche lì non è così certo il fatto che potrebbe essere un qualcuno che stava cercando di accedere più velocemente diciamo a quello che viene chiamato boschetto e la droga perché appunto passava dall'area di servizio e dall'altra parte c'era il boschetto però non si sa bene ecco bisognerebbe capire che cosa è successo invece all'altezza di Rubattino per capire come mai questa tragedia e soprattutto io pensavo anomala e che invece insomma se andate a cercare su Google nei vari giornali succede ogni tanto quindi veramente c'è ancora gente che insomma fa queste cose così rischiose queste sono le conseguenze gravissime Fabio Fibra Emma e Baby Gang in Italia 2024 2024 come l'edizione dell'Eurovision Song Contest che vedrà la sua finale sabato sera alle ore 21 in diretta dalla Malmo Arena di Malmo appunto in Svezia vedrà appunto la luce l'inizio la finale e vedremo chi sarà il vincitore di questo Eurovision Song Contest ieri sera c'è stata la seconda semifinale abbiamo detto appunto che Angelina Mango si è esibita fuori gara nel senso che appunto noi siamo tra i big five che accedono alla finale e ha fatto l'esibizione davvero magistrale bellissima da Eurovision senza però tradire la tradizione italiana senza scadere magari in troppa piaceria si può dire nel senso essere troppo compiacente con l'Eurovision insomma davvero davvero una bellissima esibizione e quindi ecco i 26 finalisti la Svezia ovviamente perché è paese ospitante ci sarà quindi poi l'Ucraina che è passata nella semifinale nella prima semifinale dell'altro ieri la Germania che è una delle big five con un brano che attenzione potrebbe essere interessante il Lussemburgo che va in finale con il brano Fighter che è quello che vi ricordo ricorda un po' Angelina Mango ma nel senso non è il brano è proprio il mood la modalità anche lei tali ricorda molto molto Angelina poi i Paesi Bassi con Europapà un pezzo bellissimo sull'Europa e su un rapporto con il padre pensate che nella canzone a un certo punto viene citato anche Stromae con Papatua poi ci sono i Paesi Bassi poi Israele Lituania Spagna che è di diritto nelle big five con Zorra che ieri quando in Nebulossa sono un duo un duo di una certa età mi piace sottolinearlo perché sono un duo di una certa età che ha fatto saltare l'arena tutta l'arena tutta la Malmo Arena ha cantato il ritornello di Zorra a squarciagola a squarciagola poi l'Estonia con un gruppo di matti possiamo dirlo sono 5 o 6 signori di una certa età che ballano con in mano gli strumenti musicali tipici loro tutti vestiti tipo iene davvero divertente l'Irlanda con un pezzo molto gotico quasi roba da American Horror Story una cosa lì poi la Lettonia la Grecia il Regno Unito che appunto va di diritto anche là in finale essendo una delle big five la Norvegia Italia con la Ginamango la Serbia la Finlandia il Portogallo l'Armenia Cipro con una canzone molto orecchiabile che sta già girando nelle radio europee un pezzo un po' la Kylie Minogue per intenderci la Svizzera con un pezzo molto bello molto interessante sarà che poi il videoclip è girato sul treno quindi mi piace anche per quello però molto interessante che cambia ritmo spesso e volentieri nella sua canzone la Slovenia la Croazia la Georgia la Francia e l'Austria Francia con un pezzo da pelle d'oca Mon Amour cantata da Sliman è un pezzo da pelle d'oca c'è un pezzo lo vedrete nella finale tanto l'esibizione è la stessa dove lui si allontana di qualche metro dal microfono e canta a squarciagola il suo ritornello nel silenzio più completo dell'arena che ovviamente lo ascolta e poi esplode almeno così è stato la semifinale ma credo che sarà anche la finale esplode in un applauso fragorosissimo che davvero ha riempito quel microfono veramente aveva fatto 5 o 6 passi dal microfono quindi si sente proprio che si allontana un po' la voce quindi si capisce che proprio così unplugged senza base tutto fa un assolo di ritornello che è qualcosa di pazzesco quindi davvero complimenti a Sliman con una grandissima canzone Daft Punk Get Lucky insieme a Farrell Williams e Nile Rogers 8 e 35 minuti Crystal Radio Good Morning Milano abbiamo parlato di Eurovision Song Contest e ci sono già i primi diciamo risultati non ufficiali nel senso vi spiego sapete cos'è Logae? Logae si chiama sì O-G-A-E no non sapete cos'è è l'Organisation Generale des Amateurs dell'Eurovision ok l'Organizzazione Generale degli Amanti dell'Eurovision è un gruppo di fan e io vorrei capire come mai non faccio parte di questo gruppo adesso devo subito chiedere la tessera che durante l'anno appunto si appassiona all'Eurovision e fa cose tra cui ad esempio un vero e proprio Eurovision Song Contest parallelo cioè votano nei mesi precedenti alla manifestazione intanto le canzoni si conoscono votano anche loro con una sorta di metodo simile a quello con cui si vota all'Eurovision e decretano i vincitori di ogni anno ed c'è già il vincitore di quest'anno ovviamente che loro lo fanno prima dell'Eurovision il vincitore dell'Eurovision secondo l'Organisation Generale des Amateurs dell'Eurovision è la Croazia Baby Lasagna con il brano Rim Team Tagadim ok con 356 punti medaglia d'argento a Angelina Mango con la noia con 338 punti quindi insomma molto molto vicina che staccano invece la Svizzera con Nemo con The Code la canzone di Nemo dello Svizzero con 290 punti poi viene il Belgio e la Francia la Francia solo quinta con 188 punti chissà se andrà così vedremo nel senso magari quei pochi punti che Logai distanzia la Croazia dall'Italia vengono ribaltati invece dal voto popolare sappiamo che poi c'è questa cosa il voto da casa che è fra una cosa e quello tra le emittenti che invece è sempre un po' più politico come voto e bisogna capire un po' le alleanze strategiche di come poi funzionerà l'Eurovision dopo sappiamo che sono paesi che non vogliono vincere l'Eurovision perché non hanno idea di come fare organizzarselo l'anno dopo quindi preferiscono magari aspetta un attimo che è meglio di no l'Italia ormai questo test l'ha passato egregiamente con l'edizione fatta a Torino quindi chissà che magari se ne vinciamo un altro riusciamo a portarci a casa una bella esibizione tra parentesi loro fanno proprio questa roba qui quindi il prossimo anno Logai si ritroverà per decretare chi sarà il vincitore del prossimo Eurovision in Croazia cioè anche loro fanno questa cosa qui ogni anno infatti l'Italia la vinte ogni tanto l'Eurovision Nina Zilli vinse l'Eurovision di Ogai cioè gli amanti i fan dell'Eurovision registrati a questa organizzazione appunto fanno è un'organizzazione che consiste in una rete di gruppi fan della competizione tra parentesi di paesi europei e non cioè ci sono anche Logai fuori dall'Europa ci sono membri dei Logai anche extra europei quindi va bene vedremo secondo i grandi appassionati di Eurovision quindi il trio dei vincitori dove c'è il podio dovrebbe essere al terzo posto la Svizzera secondo posto l'Italia e al primo posto la Croazia con Baby Lasagna noi ovviamente facciamo tutti il tifo per Angelina Mango a cui diamo veramente un mega mega in bocca al lupo e quindi ce la andiamo anche ad ascoltare Angelina Mango con La Noia Total la Noia Angelina Mango 8 secondi in più sapete cosa sono? sono i secondi che la Noia di Angelina Mango dura di più rispetto a quella che devono durare le canzoni in regolamento cioè in concorso all'Eurovision e quindi non ve ne accorgerete minimamente ma in realtà è stata tagliata di 8 secondi la versione che va all'Eurovision dove io pensavo l'accelerassero che bastava leggermente accelerare un po' il BPM e effettivamente quegli 8 secondi cioè battiti per minuto l'accelerano leggermente quegli 8 secondi in 3 minuti di canzone li riesci a recuperare facilmente visto che però è già abbastanza veloce e ci sono dei pezzi in cui veramente Angelina deve correre per cantare sul tempo giusto hanno tagliato il secondo ritornello nel secondo ritornello c'è due volte quel famoso La Cumbia della Noia Total e La Cumbia della Noia Totale ecco il secondo total è stato tolto quindi 8 secondi in meno e via a posto così pronti per andare verso la finale finale appunto che vi ricordo sarà l'11 l'11 che è sabato 11 maggio alle ore 21 in diretta dalla Malmo Arena questo l'Eurovision e quanto ci piace l'Eurovision il prossimo anno ci vado ha deciso vincerà come minimo l'Azerbaijan quindi non posso andarci lontanissimo Seven Rings Arianna Grande queste sono quelle che vanno perché insomma Arianna Grande sappiamo una di quelle che ha venduto più dischi negli ultimi anni nel mondo è che insomma cercano sempre di andare dietro invece a un'altra che insomma oltre non so sono 30 anni 40 anni che canta sto parlando di Madonna beh Madonna davvero tanta tanta roba e allora vogliamo ascoltarcela qui su Crystal Radio questa mattina con uno dei suoi ultimi brani non voglio mettere un brano storico in realtà l'ha scelto l'ufficio programmazione per me però nel senso mettiamo uno dei brani gli ultimi brani che sono quelli che insomma sta portando anche in tour nel famoso tour mondiale che Madonna sta facendo in questo periodo ovviamente sold out ovunque avete visto cosa è successo a Copacabana un milione e quattrocentomila spettatori una cosa un mare di gente insomma qualcosa che davvero solo una grande star come Madonna può fare allora chi sono io per privarvi di questa possibilità di ascoltarla qui alle 8.46 su Crystal Radio all'interno di Good Morning Milano Madonna back up to the beat 8.49 minuti andiamo torniamo un attimo sui giornali perché su Corriere del Sena Milano c'è il racconto di un incontro interessante è avvenuto appunto ieri alla Yulm con il professor Zanetti che è Xavier Zanetti appunto l'ex capitano dell'Inter l'attuale vicepresidente dell'Inter che appunto tiene una lezione alla Yulm ma alla fine arriva la domanda San Siro cosa ne sarà e allora lui dice ristrutturare San Siro sarebbe fantastico ma basta Paletti e quindi insomma una risposta molto democristiana in cui fa contenti un po' tutti però cerca di o meglio trapela una sua preferenza la preferenza sarebbe quella della ristrutturazione nel senso che dice appunto San Siro è la casa del calcio è uno stadio imponente ha ospitato pagine storiche del calcio mondiale San Siro sarà sempre San Siro poi ovviamente dice anche attenzione però perché noi sono anni che aspettiamo una risposta e delle certezze per fare quello che vogliamo fare prima si è detto che dobbiamo andarcene via poi insomma ovviamente lui parla dal punto di vista della della sua della sua società quindi vabbè non possiamo cioè ci sta non possiamo dire assolutamente nulla bisogna capire appunto però come insomma il cuore di calciatore il cuore di dirigente riescano a trovarsi a metà strada ma soprattutto credo che quella della ristrutturazione che è fatta stata trapelata come preferenza nella sua risposta sia anche diciamo dettata o dovuta da un un'idea di calcio moderno che insomma possa essere più in linea con anche una città come la nostra quindi il ci sta no? come dire lo stadio di di proprietà tutti lo vogliono e ci sta che sia così ma anche il fatto di mantenere questo stadio invece di San Siro per la città vedremo come andrà a finire lo dico sempre no? 8 e 56 minuti in super ritardo finiamo e chiudiamo questa puntata di oggi venerdì 10 maggio di Good Morning Milano dopo di noi in ritardo per colpa nostra ma non vogliamo aprire una collezione come Lilli Gruber e Mientana quindi chiedo subito scusa al bravissimo Ambrogio Curti dopo di noi Ambrogio scusa adesso gli do la linea scusami anzi come nelle migliori tradizioni di striscia la notizia tagliamo la sigla facciamo così va bene Ambrogio a te la linea grazie mille a tutti per averci seguito domani mi ricordo che è il compleanno di Crystal Radio e quindi alle 8 domani mattina ci troviamo in diretta qui su Crystal Radio insieme ad Ambrogio Curti così mi potrà dire in faccia che l'ho fatto partire tardi scusate ancora buon weekend a chi non ci sentirà buon weekend a chi ci vede e ci risente lunedì buon weekend anche a chi incontreremo in giro magari alle 8 in diretta su Crystal Radio good morning no facciamo happy birthday Crystal Radio ciao a domani